Se io non l'ho votato e tu non l'hai votato, ma come diavolo c'è finito questo? Questo onorevole malacarne là dove si decidono le cose, i nostri destini, tutte... Io glielo voglio chiedere. È per questo che ho fatto questa seconda puntata della seconda stagione. Perché? Perché voglio sentire da bocca sua come diavolo ha fatto a essere lì. Pure campione di coppia, pure booker. Insomma, ho un sacco di cose da chiedere, quindi sigla. E poi cominciamo Elite Club. Benvenuti a tutti, un altro lunedì con Elite Club. E sono qui, come potete vedere, ci sono io, Stefano, la voce di W Italian Podcast. E al mio fianco c'è Stefano Tevini, in arte onorevole malacarne, ma non solo. Oggi parleremo di un sacco di roba. Intanto, benvenuto caro omonimo. Benvenuti agli ascoltatori e agli ascoltatrici. Grazie per l'ospitalità. E per rispondere alla tua domanda è... Ti rispondo con una domanda. Perché io sono al potere e tu no? Ma infatti è questo il punto. Cioè, io credo che per arrivare a un certo punto bisogna avere dei numeri. E tu di numeri ne hai un sacco, sicuramente. Sei un personaggio che dire da scoprire è poco. Dire che sei una sorta di cipolla con un sacco di strati è veramente dire poco. Cioè, non so davvero come iniziare, da che parte iniziare. Quindi partirò dalla cosa più semplice che si può fare su questo pianeta. Chiederti, ma come fa? Che ci sei arrivato al wrestling? Ah, fondamentalmente dopo uno show ICW per andare a vedere come fan. Avevo visto in rete che c'era questa federazione italiana. Poi mi faceva ridere perché dico, questi qua sono ragazzi come me. Non vedevi quel genere di persone che avresti detto. Quelli che Joe Legend mi disse anni dopo vendono biglietti all'aeroporto. Cioè, vedi quello che può essere il cassiere dell'asse lunga da un certo punto di vista. Che secondo me è anche il punto di forza del wrestling italiano. Potrebbe essere il posizionamento, l'unicità del wrestling italiano. Ho visto, insomma, ho visto Crazy G sul ring che ho detto Beh, questo è di Brescia, questo potrebbe insegnarmi. Allora c'era un forum nel vecchio sito dell'ICW e insieme a un altro paio di amici siamo entrati e abbiamo iniziato a rompere i coglioni. Perché è una delle cose che mi viene meglio nella vita, rompere i coglioni. E a un certo punto, insomma, Crazy G ha accettato e abbiamo fatto il polo all'epoca a Belizzola che è un paese nella Gardesanistan proprio. Nel senso, Brescia molto est, poi piano piano ci siamo avvicinati al centro di Brescia e ho iniziato così. Ho iniziato ad allenarmi e non sapevo come sarebbe andata perché io proprio l'antisport nella vita, cioè ho nuotato per anni ma poi essendo che questa cosa mi fu imposta da ragazzino poi rifiutai l'attività fisica per tanti anni e invece tutto sommato la cosa è andata bene. ho costruito poi piano piano il mio personaggio su qualcosa che l'atletismo non è però mi sono anche un po' rimesso in forma e ho cominciato così. Prima con un personaggio che non funzionava abbastanza anonimo, si chiamava Nero il Cacciatore salivo sul ring come un macete e poco altro ma era una roba abbastanza anonima. Poi insomma, a me piace un altro genere di wrestling che non è comunque quel genere di wrestling molto indie e molto atletico sono comunque un narratore naturale e facciamo un personaggio italiano che gli italiani ameranno odiare che è il politico cioè è una cosa che non ha fatto mai nessuno io credo di essere forse il primo che porta un politico su ring e che in Italia in particolare è facile questa cosa qui volendo vederci ho trovato un espediente anche facilone però io politica l'ho fatta davvero ho fatto sei anni in un partito seguo la politica comunque è una mia passione di lingua sono abbastanza sciolto poi ho il physique du role perché comunque ho una pancia che è credibile su un politico e tutti insieme erano tutti elementi che tornavano insieme alla fine percorso più semplice che però è stato quello più reddifizio beh direi che la scelta è stata molto molto valida soprattutto visti i risultati poi nel senso che il personaggio di Beniamino Malacarne questo onorevole molto spesso definito corrotto ma che non ha disdegnato di fare anche il face recentemente per esempio nella faida tra Viva e Andres Diamond di cui magari parleremo tra l'altro a poco quindi in realtà questo personaggio ha funzionato molto molto bene il problema però come sempre in Italia quando devi approcciarti al ring gli spazi nelle federazioni soprattutto dove ci sono tantissimi atleti sono pochi e quindi immagino che poi sia stata quasi una selezione naturale decidere di cominciare a diciamo muoversi in altre direzioni e quindi dopo l'ICW quali sono le altre federazioni in cui hai cominciato a muovere i tuoi passi? Allora visto che a un certo punto ho capito abbastanza chiaramente che in essere la bisogna che ci fosse un grande spazio per me e allora ho deciso di muovermi poi sai il punto è quando nell'ambiente cerchi di dare un buon ricordo di te almeno come essere umano poi la cosa in un certo senso paga nel senso che comunque sono stato introdotto alla Cox da Gargoyle, da Cristiano che ha parlato bene di me a Manuel e poi Manuel si è fatto sentire e quindi ho fatto un po' di match in Cox non sono mai entrato diciamo nella struttura perché comunque vuoi perché c'ero stato in una struttura e in quel momento non mi interessava vuoi perché è un po' sono un cane sciolto di carattere ho detto vabbè è stata una collaborazione ci siamo divertiti è stato bello dopo la Cox è andata un po' per i suoi libri diciamo e siccome già avevamo avuto una mezza idea di fare qualcosa insieme io, Sciocca, Pietro e Gianni Puttini avevamo in mente una mezza idea poi non era andata in porto però quando loro sono poi entrati in viva si sono ricordati di me mi hanno detto scolta ma vieni qui che cosa ne pensi da lì ho avuto modo giustamente giustamente passando per la viva di parlare anche al telefono con Marco Polloni insomma con cui comunque abbiamo creato fin da subito un buon rapporto ci si sente spesso comunque anche in ribadisco si è curato anche il rapporto umano e quindi insomma ha trovato la viva in viva comunque c'è questo grande valore del backstage nel senso che è bello stare con i ragazzi della viva c'è un'esperienza umana al di là di quello che è il ring che è molto bella e quindi mi sono sentito a casa subito e sono lì insomma faccio del mio meglio faccio dal mio meglio per dare il meglio possibile e questo è e qui sono arrivato al momento beh è un bel percorso in realtà perché comunque mostra una passione che va al di là dell'appartenenza a qualcosa a un luogo o a una struttura come l'hai giustamente chiamata tu che però poi in fondo ti ha riportato ti ha mantenuto anzi in realtà all'interno della sfera del wrestling che è la cosa migliore in assoluto discontinuo come percorso perché ci sono stati lunghi periodi in cui il ring non l'ho nemmeno visto per esempio quando ho fatto quella puntata di turisti per D-Max io ero un anno che non salivo sul ring e quindi in realtà è stato un percorso anche discontinuo però poi sai non smetteresti mai nel senso che quando il ring ti chiama poi tu rispondi comunque penso che sia una di quelle cose magnetiche in qualche modo verso le quali una volta che hai cominciato a entrare in quell'orbita difficilmente riuscirai a uscirne del tutto puoi far finta di niente io non faccio finta di niente è una delle cose che gradisco di più del tuo personaggio e poi cominciamo a entrare un po' nei tuoi gusti perché poi non mi piacciono le interviste troppo canoniche e quindi ti voglio chiedere ma la tua musica è d'ingresso? dal mio punto di vista la più azzeccata che io abbia mai sentito in assoluto ci vuoi raccontare di chi è? più o meno di cosa parla e cos'è stato il motivo che ti ha spinto ad accettarla anzi a scegliere la sonora di quadri o l'hai scelta proprio tu? scelta io sì allora io la volevo già in ACW questa musica di cui poi parleremo però ha una storia e solo che là mi hanno detto il tuo personaggio però dovrebbe essere più cubo più serio lì questa è una canzone troppo umoristica dal loro punto di vista era uno sfottò allora scelsi una canzone che si chiamava This is the moment dal musical Dr. Jekyll e Mr. Hyde che ha un programma televisivo mi sembra Zellig l'avevano fatta vedere come aveva la stessa matrice a livello di melodia di Forza Italia dell'inno di Forza Italia allora cazzo prendo questo ho detto e finché sono stati in ACW ho scelto questa dopo tornando qua ho detto Restart perché no? ho detto Rino Gaetano capo fortuna che parla in maniera ironica di questo politico che è proprio il politico locale se dovesse dire di che politico parla parla di Mastella di Clemente Mastella se si parla di un politico la Clemente Mastella cioè l'eroe nazionale di Ceppaloni l'eroe nazionale del paesino e quel genere di politico lì infatti io entro con la fascia da Tricoloni che è da sindaco in realtà perché c'è questa matrice di localismo all'italiana quindi è bella è innanzitutto di rottura perché sai così come il mio compagno di coppia che ha questa musica comunque da playboy un po' la Fausto Pappetti così cioè c'è un quel genere di musica che non sono le classiche schitarrate metal o quelle cose diciamo più 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 rocchettare no è una cosa divertente cioè c'è un guizzo di intelligenza nella cosa capo fortuna di Rino Gaetano è questa cosa qui lui Rino era un grandissimo interprete della società italiana della società prima ancora che della politica è stato un grandissimo cantautore con una leggerezza che non riusciva ad avere nessuno perché in cantauturato in Italia parliamo di De Andrè parliamo di Guccini parliamo di gente De Andrè anche quando faceva umorismo era un po' in cattedra Rino no no cazzo Rino era quello che quando è ubriaco ti molesta infatti non te regga più di Rino Gaetano è nata perché stava rompendo i coglioni un suo amico e questo gli ha detto a Ria basta non te regga più e allora lui non te regga più hai capito quella roba lì è quell'intelligenza che c'è solo nell'ironia l'ironia ha quel guizzo di intelligenza che altrove ti dà automaticamente un gradino superiore all'ironia secondo me sì beh oltre a saperla cogliere anche saperla fare poi l'ironia anzi forse quando lo sai fare ancora di più lì davvero ti metto un po' in cattedra mi piace molto questa cosa soprattutto perché poi Rino Gaetano nel tempo è stato anche hanno cercato di politizzarlo tutti però in effetti da qualsiasi parte tu lo guardi puoi tirarla un po' dalla tua che tu sia da una parte politica o dall'altra c'è il modo per tirarsi un po' dentro Rino Gaetano io lo adoro molto perché è una sorta di pensatore anarchico libero libero sì sì lui è uno di quegli anarchici autentici per questo che poi lo puoi strumentalizzare o puoi illuderti di strumentalizzare esatto ci provano ma non ci riescono perché riuscendo a criticare efficacemente tutto e tutti poi puoi pensare sbagliando che di tirarlo dalla tua ma in realtà Rino sta solo con Rino assolutamente mi fa molto piacere tutta questa spiegazione perché davvero io e poi chi mi segue sa benissimo la struttura mentale che ho è quella del musicista perché lo faccio nella vita quindi sostanzialmente questa cosa poi mi piace anche parlare e discutere quindi insomma ho notato subito questa bellissima musica d'ingresso che insomma mi ha subito scaldato e quindi ti ho voluto fare questa domanda perché davvero è fantastica ma e poi suona anche bene nel momento in cui sposti la tenda entri con con la mia faccia da cazzo sorridente e cittadini laboratori è proprio crea l'entrata perfetta perché poi si riesce a trovare un'entrata che fisicamente si mescola con quello che fai cioè Unstable di Ultimate Warrior quella roba lì il match di Ultimate Warrior finiva quando finiva di squadrare le corde il resto era chiudere la pratica perché riusciva molto bene a rappresentare questa cosa qual'effetto lì alla fine sì decisamente mi trovi sostanzialmente d'accordo credo che un po' nel tempo si sia perso l'abbinare la musica giusta al lottatore a fuori magari della spettacolarità o dell'indirizzo che si vuole dare alla federazione al lottatore anche il fatto comunque purtroppo di mettere in mano a una persona sola molte volte le musiche di tanti e ovviamente quella persona sola ha il suo punto di vista e vive con quel punto di vista cioè io mentre guardo il monitor la webcam non vedo dietro e quindi sostanzialmente se guardo sempre in questa direzione non vedrò mai dietro oddio secondo me lo puoi fare lo puoi fare ma la persona deve essere profondamente curiosa deve essere una persona molto curiosa e riesce a mettere in secondo piano il suo gusto personale ok ma attenzione ai diktat della federazione perché poi noi quando parliamo di musiche fatte così sono tutte major quindi la major ha anche degli obblighi quindi li scuso un po' di più però si è persa questa cosa fantastica cioè mentre la musica di Undertaker è perfetta mentre la musica come dicevi tu di Ultimate War era perfetta la musica di Hulk Hogan era perfetta all'epoca tanto per dirne un altro di quelli sempre citati a sproposito lo citano sempre per le cose sbagliate Hulk Hogan invece questa cosa qui era veramente calzava pennello oggi un po' meno e infatti ma oggi c'è stato secondo me allora oggi il wrestling che fa milioni è la WWE ok e se vogliamo parlare di wrestling professionale ai livelli della WWE c'è solo la WWE piaccia o meno fan o non fan a Vince puoi tirare addosso le peggio maledizioni ma lo stato dell'arte è la WWE piaccia o meno il problema però qual è a questo punto quando hai un monopolio così grande e puoi permetterti di fare errori cioè perché non li paghi fondamentalmente e ricordiamo per dire la WCW giocandosela nel migliore dei modi non poteva permettersi di fare grandi errori perché comunque non ha mai guadagnato tanto la WCW in realtà perché con le spese che ha avuto Ted Turner la WCW è stato un buco l'unico che ha mai fatto i milioni con il wrestling l'unico che ha fatto milioni di utile con il wrestling è Vince McMahon a questo punto lui può fare tutti gli errori che vuole e i fan si possono incazzare nella più acida delle maniere diciamo che poteva no può ancora nel senso che nel senso che oggi il pubblico oltre ad essere molto variegato noi pensiamo sempre che l'alternativa alla WWE sia la AEW no? è sbagliato l'alternativa alla WWE è qualunque cosa non sia la WWE perché oggi è quello il punto per cui ci si può affezionare a tanti aspetti tante piccole luccioline che ci sono in giro e puoi orientare i tuoi soldi in un modo diverso da prima nel senso che io questa cosa la chiederei a chi mette la firma sui libri contabili delle altre federazioni ma non è solo quel discorso allora capisco cosa dici ma te la sto ribaltando cioè ti dico io vorrei veramente sapere da parte della WWE se alla fine della pandemia per esempio ritorneranno a fare show dal vivo credo di no spero di no per loro e non so quanto gli costerà fare degli show itineranti quanti decideranno durante un anno di fare invece show in una sola arena perché comunque gli utili che hanno avuto quest'anno altissimi sono dovuti al fatto che non hanno avuto spese certo ma gli altri anni non è andata così in questo modo e riprendendo riaprendo non è detto che loro scelgano subito di andare a fare come facevano prima perché oggi veicolare i soldi è diverso io posso comprare anche soltanto per tre mesi New Japan World per guardare quello e sospendere il WWE Network posso avere il network solo nel mese di Wrestlemania e comprare tutti gli altri pay per view guardarne uno al giorno tanto solo una dozzina e arrivare 15 giorni di Wrestlemania a sapere tutto cioè ci sono molte cose che oggi le WWE deve guardare che sono diverse da prima e quindi non è solo una questione di libri contabili che è giustissima che fai tu credo che sia anche una questione di ma dove vanno i soldi delle persone quindi oggi è diverso se lo pongono questo problema non è che non se lo pongano penso di sì che poi Vince McMahon comincia a dimostrare la sua età alcune volte ci sta ha una certa età e molti alla sua età sono a guardare i nipotini lui è ancora lì che fa Vince McMahon però è in grado la WWE di assorbire delle cazzate epocali del suo capo prima di risentirne veramente e poi anche perché ricordiamoci che a parità di network la WWE ha una library video da spavento cioè io me lo compro il network anche non per Wrestlemania ma per vedere i vecchi incontri poi al momento è così come sarà domani io non lo so però al momento ma questo per dire cosa che si è ragione si è perso questa cura delle musiche dei personaggi e quant'altro si è persa questa cura del prodotto secondo me perché secondo me l'era rock and wrestling non è più stata eguagliata l'era dei videogiochi con i Legion of Doom come cattini finali fino a prima dell'era Attitude già l'era Attitude è stata una roba di rapina che loro hanno preso dalla ECW e secondo me nemmeno così bene era gli anni 90 e piaceva in un'epoca in cui si andava in giro col marsupio come se fosse un accessorio di moda quindi cerchiamo di capire anche che cos'era il gusto collettivo negli anni 90 però secondo me anche nello storytelling dei match tutto secondo me era superiore fino a prima metà degli anni 90 hanno spartiacque il 93 94 quando poi appunto 94 hanno spartiacque è vero che io allora li sto riguardando tutti sono ripartito dal 93 me li sto riguardando sono entrato da pochi giorni nel 1995 sto guardando tutto ok quindi tutti gli show settimanali che ci sono sul network tutti i pay per view nell'ordine corretto quindi sto riguardando una visione molto molto diciamo fine di quegli anni e nel momento in cui tu guardi per esempio una faida gigante come bret art contro un art durata un anno e mezzo tra incontri scontri incroci incroci da vicino da lontano è veramente qualcosa di oltre cioè vai oltre quello che oggi puoi umanamente immaginare le rettiti dico sempre una cosa la gente si incazza con questa mia affermazione però tanto è vera quindi nessuno può dirmi niente le rettiti è tutta quella che vedete nel best of c'è un best of delle rettiti due ore ci sono quelle scene lì nella DX tu tutte le settimane aspettavi io l'ho vissuta le rettiti quindi la so ho vissuto la mondo di natura tu aspettavi perché non sapevi cosa sarebbe successo ma la maggior parte delle volte non succedeva un cazzo è vero quindi la realtà è che prima succedevano un sacco di cose e si facevano un sacco di errori belli ma proprio belle gimmick sbagliate personaggi che non c'entravano un cazzo gente che diceva cose assurde al commento poi è diventato invece un marasma quasi incontrollabile pieno di altri elementi droghe e altro è molto più caotico di quello che la gente oggi vuole ricordare ed è una fortuna che molti siano ancora vivi di quell'epoca per lo stile di vita e quant'altro in realtà c'è un mito delle rettiti che andrebbe un po' sfatato la gente dovrebbe riguardare sono perfettamente d'accordo il punto secondo me è che in quel momento WCW e WW erano veramente a questa distanza a prendersi a testate non è un bel incontro da vedere portato in figura questa cosa non è un incontro di Kung Fu tutto elegante è una brutta rissa in cui della gente si dà poi sei lì vicino alla rissa e vuoi vedere come va a finire magari perché però se la guardi dopo c'è un coreografo non ti prenderà quella no? secondo me la bomba atomica è veramente stata come una bomba atomica che cade e quello che c'è intorno o muore o muta geneticamente la bomba atomica è stato Shane Douglas che droppa la cintura NWA e dice they can all kiss my ass bomba atomica il DNA del wrestling è mutato l'hanno capita male perché l'hanno capita male l'ECW perché l'ECW era qual è la differenza qual è che rende quella cosa adesso dirò una cosa che mi renderà impopolare ma chi se ne fotta il mio personaggio è impopolare quindi va bene qual è la differenza tra quella cosa che rende la vecchia ECW una federazione di wrestling e tutta quella marmaglia di ultraviolence spazzatura tutto quello che è venuto dopo a livello di ultraviolence ancora è spazzatura il fatto che c'era un'atmosfera c'era quella cosa da tv pirata dove sembrava che dovesse succedere di tutto i promo con la colonna sonora vagamente Pulp Fiction quella roba lì c'era un'atmosfera lì sembrava di guardare Max Edrum perché ha visto la vecchia serie tv sembrava di guardare Max Edrum e quindi era quella roba lì cioè ti raccontava una cosa con tutto il progetto Paul Heyman Paul Heyman era un cazzo di genio perché ti raccontavo la cosa con l'intero prodotto perché dico che il wrestling succede prima intorno al ring e dopo casomai nel ring ma se hai fatto bene la roba intorno al ring quello che succede nel ring è vero io dico sempre che il problema di Paul Heyman è stato dargli i soldi in mano sì è vero quello l'ha ucciso poi a un certo punto comunque il colosso WWE se l'è spolpato finché ne ha avuto bisogno per per il discorso di rompere i coglioni alla WCW se lo sono tenuta sono tenuta come di vitaio quando ha finito se l'è spolpata e ciao sì c'è da dire una cosa gli anni veramente belli dell'ICW e poi dopo torniamo anche alla carriera di Stefano Tevin ci mancherebbe altro però gli anni belli non è vero parlare di questo di questo wrestling che non c'è più ma certo infatti possiamo stare qua otto ore per quanto mi riguarda penso che i server di YouTube non ci rompono le palle ma dicevo la cosa bella di quell'epoca è che tu potevi vedere la crescita la nascita di una superstar in ICW vedevi uno che veniva con una grossa mano e portava via il ragno che prende la macchina e la butta via e in quel momento arrivava un altro stupido sconosciuto con un costume improbabile e il giro di tre settimane era il nuovo eroe la ICW è stata una praticamente una macchina che ha costruito tutto ed è arrivata prima degli altri a fare le collaborazioni con Messico Giappone quelle cose fighissime che all'epoca erano veramente oggi noi eravamo extreme anche perché avevamo i più tecnici Malenco Guerrero compagnia cantante li avevamo noi Benoit Gerlini c'era un sacco di gentelle sì 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 ma infatti guarda io credo proprio sia stato uno di quei momenti di quegli spazi in cui il wrestling si è annostrato per quello che poteva essere con un po' più di ordine quella roba lì era spettacolare forse un po' più di ordine avrebbe rovinato c'era una anche tanti match da buttare via col seno di Toia però sì ma anche delle faide da buttare via però soltanto visto che si parla dei primi anni 90 Johnny Polo che era un manager stupido molto ingombrante per certi versi che va in CW diventa Raven solo in CW sì sì assolutamente quindi allora tornando un po' alla tua carriera quante cose abbiamo già detto mamma mia siamo solo all'inizio allora tornando alla tua carriera tu però cosa fai nella vita perché tu nella vita non sei sempre stato l'atleta wrestler ci dicevi che non hai avuto magari quello spunto per lo sport quindi dove hai portato le tue attenzioni da ragazzino e dove sei arrivato a lavorare all'inizio della tua vita lavorativa allora io da ragazzino ho passato tanto tempo a cercare una forma di espressione in tanti mi avevano già detto ma sei capace a raccontare perché non scrivi e inizialmente non mi ritenevo all'altezza perché mi sembrava una roba molto complicata scrivere che poi non è semplice per niente però si può fare si può fare come tante cose si può fare però io non mi credevo invece poi ho cominciato stavo cazzaggiando sul sito dei Wuming una una domenica e ho visto questa Anonima Scrittori Anonima Scrittori è stato un collettivo di amanti della scrittura frequentato anche da Antonio Pennacchi per dire i primi vaffanculo li ho presi da lui con cui c'è stato questo bellissimo legame a livello umano andavamo in giro per l'Italia a fare i reading lì ho provato a scrivere le mie prime cose a vedere cosa funzionava e cosa no e al di là di amicizie che durano tuttora nel tempo poi Anonima Scrittori è chiuso nel frattempo però ho visto che mi piaceva che scrivere funzionava scrivere funzionava e e ho capito piano piano che questa è la la cosa che più mi definisce per cui più sono venuto al mondo è la mia chiamata più autentica alla scrittura quindi io scrivo scrivo ho pubblicato cinque romanzi una raccolta di racconti sto adesso iniziando una collaborazione per dei fumetti e ho iniziato anche a fare il booker quindi sono racconto storie nella mia vita e ne ho fatto anche una professione sono riuscito a cominciare a collaborare con un'azienda che fa l'attiva nel campo della formazione per i dentisti e faccio il copywriter che quindi è scrittura per fini commerciali che è scrivere per vendere il copywriting più tante altre cose ma prevalentemente quello poi in realtà è una galassia complessa anche quella e quello che faccio è questo e poi scrivo anche di libri e di fumetti su nocturno su duel punto it mi occupo di scrittura veramente a 360 gradi prima nota per i nostri ascoltatori poi vedete passare i social sotto la faccia di Stefano in questo momento ma vedrete anche in descrizione sostanzialmente l'elenco dei libri che potete acquistare dove li abbiamo trovati alcuni su Amazon alcuni invece su EBS insomma c'è un sacco di materiale incoglionito come pochi mi sto dicendo guarda che cazzo passo invece l'intervista è registrata molto bene è registrata ma non ti preoccupare noi abbiamo i potenti mezzi della post-produzione mi sono sentito intelligente come il gatto che cerca di prendere la bambina quando passa sulla tv sai cosa ho fatto io invece mi sono dimenticato di mettere il banner sotto e quindi adesso con una magia cioè con un click metterò il banner sotto che gira no allora perché questo rosa che è entrato a far parte della vita di questo edit club da quest'anno dalla seconda stagione va mostrato io sono molto orgoglioso di questo rosa devo dire la verità è molto shocking è molto bretart è il secondo che me lo dice in due interviste quindi vuol dire che è molto bretart ma anche perché rosa bianco e nero è proprio art foundation allora questa sarà la stagione bretart fine ormai siamo tutti i partiti the best there ever will be ovviamente come sempre e quindi insomma tu scrivi io devo devo fare outing outing coming out non so come si può dire questa roba nel miglior modo possibile ho letto un tuo libro molto bene e sicuramente in realtà sta per arrivare anche il penultimo che hai scritto quindi ho cominciato a leggere i tuoi libri come ho fatto a iniziare a leggere i tuoi libri cosa che sembra una cosa stupida ti ho parlato ti ho parlato no ti ho parlato ci siamo scambiati quattro parole ci siamo incontrati a una show della viva e devo dire una cosa sei stato forse il primo che mi hanno dato questa percezione di possibilità di scambio con il genere umano che fa il wrestling ho sempre avuto io questa sorta di mito di non poter in nessun modo far parte del mondo del wrestling perché io sono un fan non c'entra un cazzo non c'entra niente c'è invece questa cosa fantastica di potervi parlare chiedere le cose scoprire che poi tu magari sei uno scrittore e quella sera succede che io mi faccio dare anche il tuo numero di telefono tu mi dai i tuoi contatti i tuoi quelli di Mr. PDP di cui parleremo tra poco ti scrivo il giorno dopo compro il libro mi arrivo al libro le lego cominciamo a parlare e poi e poi poi mi dici una cosa che mi ha sconvolto lo scrivi sui social e scrivi caro Marvel Unlimited mi sono già ripagato l'abbonamento di un anno in tre mesi confermo e io dico scusa come funziona sta cosa perché io ne sentivo parlare ma non avevo nessuno che l'aveva mai bastardo mi hai fatto spendere più soldi tu da quando ti conosco che molte altre persone quindi sei anche un avido lettore di fumetti e contando che non mi prostituisco è un bel esatto esatto li avrei spesi volentieri in quel caso ma questa è veramente una brutta battuta bisognerebbe ma non siamo su Twitch altrimenti bisognerebbe dissociarsi dicevo tu quindi sei anche un avido lettore sì assolutamente quali sono i capisaldi quali sono non so i tre titoli titoli proprio di saghe di serie di personaggi che tu dici caspita quelli mi hanno formato allora prendiamo che chiunque scrive chiunque voglia scrivere deve leggere la prima cosa da fare quando vuoi scrivere incolla al culo la sedia e leggi la seconda incolla al culo la sedia e scrivi ma dopo prima leggi tanto e allora è un universo vastissimo poi contando che meno per questione di tempo le serie tv ma molto di più libri e fumetti se ne devo tirar fuori tre casuali allora la mano sinistra delle tenebre di Ursula Le Guin grandissima scrittrice secondo me una grandissima occasione persa non averle dato il Nobel e che è un libro che parla di quanto illusorio sia il concetto di identità sessuale e parla di questa cosa in un'epoca in cui ancora questo discorso non era perché è un libro degli anni sessanta un libro di fantascienza molto bello degli anni sessanta dovreste recuperarla tutta Ursula Le Guin cioè tutto quello che porta alla firma di Ursula Le Guin andrebbe letto anzi sono felice di citare un'autrice per prima perché secondo me secondo me Ursula Le Guin la mano sinistra delle tenebre mappa un po' tutta Ursula Le Guin e vi farà veramente vi insegnerà tantissimo quel libro poi Invisibles di Grant Morrison una serie a fumetti della fine degli anni 90 che è uscita adesso tra l'altro in omnibus italiano sono 100 euro ma è una bomba atomica è un è un fumetto che letteralmente ti deprogramma è veramente alto incredibile è questa guerra tra un tra un gruppo di terroristi e queste creature extradimensionali che controllano la realtà che poi si scopre essere qualcosa di molto di più e vengono tirati in ballo universi che nascono cioè le idee proprio che non si risparmiano bellissimo proprio è è una serie difficile anche per certi passaggi ma che va letta e prendiamo la serie tv che ho guardato l'anno scorso The Midnight Gospel su Netflix anche questa psichedelica è una serie psichedelica ti ti spacca il cuore e ti ti lascia è un viaggio incredibile parla di questo di questo ragazzo che attraverso una una sorta di apparecchio viaggia in diversi mondi ognuno di questi mondi ha una sua particolarità ma ogni viaggio è un viaggio psichedelico che come diciamo la parte audio è un podcast filosofico che l'autore aveva parla quindi di vita di libertà di scelta di morte e ci sarà un punto non voglio spoilerare niente ma ci sarà un punto che vi sbriciolerà il cuore che vi spaccherà il cuore a metà così proprio perché è stupendo the midnight gospel è un cartone avvenuto ok metteremo in descrizione tutti i link per tutte queste cose perché sicuramente sono interessanti poi ce ne sarebbero mille altri ma potremmo stare qui a parlare solo di questo è vero e quindi spoileriamo così alle persone faremo anche una chiacchierata su un altro canale che rappresenta più il mio lavoro e parleremo solo di cultura libri di scrittura quindi a un certo punto vi troverete anche un altro link con il buon Stefano Tevini per parlare di tutta questa roba io non mi vedo l'ora sarà un'altra chiacchierata e mi divertirò un sacco poi metteremo a confronto anche un po' i nostri gusti che chiacchiereremo anche su guarda sarà veramente bene ma avevo avuto anche l'idea di fare il wrestling writer però c'era in giro un combat comedian che magari non se la prenderebbe se la prenderebbe un po' a male uno gli imita al personaggio così io dico io dico che la scelta del politico sia stata veramente l'ideale l'ideale assolutamente tu oggi non sei solo il politico corrotto tu sei anche il campione di coppia italiano della viva e tu sei in coppia con un altro personaggio che tutti sanno ormai che è il mio idolo cioè mister pdp è l'idolo di tutti sai che io come sfondo del cellulare ho la foto con lui cioè tutti hanno la foto con la fidanzata la mamma il nonno io ho la foto con pdp cioè fate il cazzo che vi pare io ho quella giusto giusta no vabbè come immagine non so di whatsapp così ce l'ho con la fidanzata però cellulare quella istituzionale si esatto se voglio trombare mi conviene ogni tanto bravo mentre invece mentre invece pdp insomma eroe di un altro tipo di mondo anche lui è un personaggio che avremo con un'intervista e già non vedo l'ora ma siete campini di coppia questa coppia che secondo me è perfetta spiego velocemente per i quattro che non sanno ancora cacchia pdp è un latin lover incredibile un amante premuroso direi quasi un non so con questo subwarfare molto molto tenero molto accattivante un porcone allucinante fantastico e e fate insieme il politico e il playboy fate i bunga bunga io mi sono steso la prima volta mi sono steso raccontate un po' che cacchio avete fatto ricordati che siamo comunque in una fascia più o meno e quindi non si può raccontare quell'altra cosa meravigliosa che un giorno terremo per una notte in cui faremo una chiacchierata su twitch molto più intima ok allora con pdp il fausto papetti del wrestling italiano ecco scusami fausto papetti ragazzi più giovani andate a guardare le copertine di fausto papetti e capite perché noi che abbiamo l'età che abbiamo perché abbiamo la stessa età oltre che marcia nello stesso modo e tra l'altro siamo bstefani se la bstefani volesse mandarci dei biscotti poi gli diamo gli indirizzi o denunciarci per violazione del copyright a questo punto assolutamente ma si può fare tanto ci sei tu che vai nelle pieghe del copyright e sistemi tutto ma soprattutto controversi create cash facciamo il podcast dal carcere dopo ma fantastico fantastico quindi quindi mi sono perso sulla cosa vabbè vai avanti dopo che mi sono perso parliamo di Fausto Pappetti che è questo sassofonista andate a vedere Fausto Pappetti questi dischi strumentali da acchiappo perché mettevi sul disco con la pipa e tutto quel genere di situazione lì sono fondamentalmente dei pezzi di sassofono molto sedutivi e allora con PDP allora giusto chiaramente c'è stata una abbiamo fatto amicizia subito la prima volta che sono andato a fare un allenamento al polo di Asola sempre sempre tenuto dal mio maestro Crazy G c'era Marco non puoi non starti simpatico prima cosa seconda cosa abbiamo questa grande passione comune e quindi sai gli argomenti di conversazione non mancavano Diamond alla Space ovviamente assolutamente assolutamente beh sai fare un po' di attività fisica giustamente fa bene questo tra l'altro faccio veramente DDP Yoga ragazzi provatele una bomba me l'ha me l'ha me l'ha consigliato un altro compagno The Ring Tsunami e devo dire che sì funziona migliora le performance tutte tutte confermo ti sei visto con Tsunami di recente? sì mi sono messo già da prima di Tsunami sai parliamo poco di DDP Yoga in realtà perché abbiamo paura un po' di sconfinare in quelle cose un po' del copyright però io avrei un sacco di robe fighe da dire come stiamo facendo pubblicità in realtà no è vero però comunque ci teniamo gli vogliamo bene a DDP esatto assolutamente e comunque tornando a PDP lui fa PDP Yoga con le ragazze insomma quindi fuori dal ring c'è stata una simpatia umana subito poi lo vedi sempre volentieri no? e abbiamo fatto un po' di faida in Cox un po' di faida diciamo unofficial nel senso che ci siamo scontrati un po' di volte ci trovavamo bene abbiamo detto sarebbe sempre piaciuto avere avere un tag team presto o tardi perché comunque perché no e l'occasione si è presentata quando mi sono presentato in vivo ho detto ma ti piacerebbe sì sì mi piacerebbe fare un tag team con Marco e abbiamo vinto il titolo in un backstage brawler e non abbiamo ancora avuto modo di difenderlo un regno piuttosto lungo ma per adesso a livello di face poche ma venite a sfidarci quando volete non abbiamo paura e quindi niente noi non siamo felicissimi di questa cosa e questo è nel senso funzioniamo perché sai a un politico serve sempre un'agenda con i numeri giusti come quella di PDP lui mi lui mi procura mi procura diciamo le hostess e l'intrattenimento per quando io poi con i miei con i miei compagni di partito o con anche i compagni di altri partiti faccio le mie feste insomma con commentatori assolutamente certo commentatori di wrestling o chi altro insomma e quindi l'idea della coppia è questa qui lui è il mio è il mio event manager se vogliamo questa cosa è fantastica perché tu prima hai citato una musica d'ingresso che ricordava Forza Italia poi vi chiamate Bunga Bunga diciamo che la parte mia non ci sono tutte le stesse simpatie per il personaggio e io rido neanche la parte mia io rido veramente mi fa proprio ridere questa cosa nel senso buono mi fa ridere io la trovo geniale poi so che qualcuno si offenderà non mi frega un cazzo io la trovo genia no no lo è guarda non per attaccare il pupone politico mi sto proprio dall'altra parte rispetto al berlutonismo sto proprio da tutt'altra parte però è sempre lì il punto con il wrestling devi essere molto devi arrivare molto diretto e piaccia o meno la figura Berlusconi è un personaggio che arriva molto diretto molto semplice sta simpatico piaccia o meno sta simpatico quindi tutto crea quell'universo lì Berlusconi neanche Paolo Sorrantino ce l'ha fatta uscire da quella roba lì loro uno e due si ferma non racconta Berlusconi racconta la Berlusconide cioè racconta l'universo narrativo Berlusconi che è facile da replicare ci metti un po' di gnocca ci metti un po' di sai un po' di faccia da cazzo e in questo senso la roba che abbiamo creato con Marco con PDP è stupenda perché funziona proprio così funziona proprio così abbiamo ricreato quella roba lì abbiamo ricreato quella roba lì che funziona benissimo secondo me a livello narrativo sì io mi sento un po' non so viene citata molte volte questa cosa quando Berlusconi si presentava le persone si presentava dicendo io mi rivolgo all'italiano medio che è più o meno un dodicenne l'ultimo della classe dato che io sono stato rapito dai bunga bunga mi chiedo ma dove cazzo sto io nella classe probabilmente sono più che all'ultimo banco sono indietro quindi per me funzionate tantissimo e parlavi di questo backstage brawl sostanzialmente dobbiamo arrivare anche a questo punto che è qui che prima o poi si andava a parare questo rilancio che c'è stato anche nella tua carriera l'ingresso in viva e queste situazioni avviene però durante il periodo pandemico sostanzialmente perché poco prima della pandemia si ricomincia lavorare in un certo modo in viva quella cosa che dicevi prima del backstage ritorna un po' in quel periodo lì e sostanzialmente poi parte tutto un periodo complicato molto complesso tu come l'hai vissuto proprio a livello di wrestling? a livello di wrestling io sono stato intanto affortunato che abbiamo fatto degli show poi comunque essendoci tutto quella quel valore aggiunto che abbiamo di viva il wrestling cioè vedere il prodotto che cresce e che ne sei parte anche da quel punto di vista lì è comunque bello cioè per me nonostante tutto è stato un bel anno di wrestling dopo non mi sarei offeso a fare due o tre show in più però ragazzi era una pandemia cioè comunque qualcosa si è riuscito a fare a differenza di altri che non hanno fatto niente anche se è colpa loro cioè ribadisco c'è una malattia di cui si muore e quindi si fa quel che si può nonostante nonostante quello siamo riusciti a fare un bel anno pensa un po' e poi io spero che questa cosa finisca al prima possibile purtroppo io non sono come chi si scaglia facilmente contro il governo vorrei vedere voi ad avere questa situazione da gestire perché se sbagli muoiono di fame se sbagli dall'altra parte muoiono di pandemia è un problema grosso ha cambiato le nostre vite e credo che alcuni mutamenti saranno permanenti non so ancora bene come però veramente alcune cose cambieranno ha accelerato comunque alcune dinamiche nel senso che anche lì tante imprese si sono trovate in difficoltà sì ma avevano dei problemi di gestione anche prima l'imprenditoria in Italia spesso improvvisata spesso improvvisata non dico sempre non voglio fare di tutta l'erba un fascio perché naturalmente salterà fuori qualche bravissimo imprenditore virtuoso che avrà dei bellissimi argomenti per dimostrarmi quanto lui sia un bravo imprenditore virtuoso molto bene ci fa tanto piacere ma non è questo il punto e quindi ha cambiato tante cose era normale che il wrestling venisse cambiato siamo stati bravi e fortunati comunque nonostante tutto a fare delle cose e a piazzare un prodotto in questo periodo siamo riusciti a fare cose che gli altri non hanno saputo fare sì questo è vero la fortuna sempre perché la fortuna è determinante nella vita sì però la fortuna come si dice si va a cercare sì però c'è stata la bravura la bravura anche anche di chi come Michael ha ideato e ha realizzato il prodotto Viva Wrestling che ci dà una seconda vita sul web comunque ci dà ci dà qualcosa in più ci dà assolutamente qualcosa in più che in questo momento gli altri non hanno e quindi nonostante la pandemia abbiamo spaccato i culi è stato un anno migliore da questo punto di vista che altri non pandemi qui sicuramente sicuramente diciamo la viva è caduta abbastanza in piedi non mi piace molto diciamo fare questo ragionamento dal punto di vista proprio filosofico però in realtà forse era l'occasione questa di fermarsi un attimo a livello personale e soprattutto per chi non ha non ha avuto effetti diretti nel mio caso non mi sono ammalato non ho avuto problemi sostanzialmente però era il momento di fermarsi e fare un momento locale anche sui propri progetti sulla propria vita e decidere cosa fare la viva ha avuto la possibilità ma ha avuto anche l'ingegno ha avuto anche un po' la forza per farlo e bene così bisogna sempre fermarsi c'è una cosa che leggerai su tanti manuali di automiglioramento e quant'altro che in mezzo alla cuffa qualcosa di buono potrebbero anche avere che è che poi non so se sia vero tra l'altro che dicono che in cinese c'è lo stesso ideogramma per crisi e per opportunità non è una colpa sfruttare le opportunità che si presentano in un periodo di crisi non lo rende meno un periodo di crisi perché comunque sono morte tante persone comunque è stato un dramma e sarà un dramma ancora nessuno nega il dramma del covid ed è ancora un nemico da cui guardarsi perché è ancora pericoloso anzi non fate stronzate ragazzi fate state attenti non pensate che è pesante per tutti però state attenti però se qualcuno un'occasione l'accoglie che cosa si deve fare nel senso non può frustarsi non può mettersi il cilizio e se qualcuno ha preso anche l'occasione personalmente per fare il punto della situazione che non aveva avuto il tempo di fare la prima insomma meglio per lui se in un periodo di tanto dramma qualcuno riesce a cavarne qualcosa di buono perché no un atteggiamento bacchettone moralista o invidioso a cosa porterebbe a niente quindi chiunque è riuscito a cogliere delle opportunità di crescita nel periodo della pandemia insomma sono contento per cui tu invece da un punto di vista proprio personale cioè hai avuto magari modo di poter scrivere qualcosa di più di poter leggere qualcosa di più c'è qualcosa che ti ha lasciato di positivo questo periodo allora io il primo lockdown non l'ho praticamente visto perché a parte che ho lavorato perché io lavorando in smart working come copywriter comunque non ho saltato un giorno di lavoro e poi comunque nella prima parte del lockdown ho corso per finire un romanzo che dovevo consegnare a una scuola di scrittura che ho frequentato quindi l'ho voluto terminare entro una certa data e quant'altro quindi per un certo periodo quando staccavo dall'aruro avevo quello e scrivevo a testa bassa poi purtroppo fino a marzo ho perso mio nonno non per il covid per un'altra malattia che si portava dietro da tanto tempo però questa cosa chiaramente ci ha lasciato un segno quindi io ti dico che fino almeno fino ai primi di aprile per me praticamente non cioè tra il nonno che non stava bene e tutto il resto per me non l'ho proprio quasi visto il primo lockdown tutto sommato il fatto di stare a casa la sera visto che io sono sempre fuori normalmente il fatto di stare a casa la sera sì ho letto di più questo sì ho letto di più ho intensificato la mia collaborazione con i magazine online ho fatto una bella serie di articoli su duels quindi sì ho avuto modo di leggere di più di far più delle mie cose noi abbiamo deciso di aprire twitch figurati proprio quelle cose che in realtà il tempo a disposizione se ce l'hai puoi sfruttare io dico che in parte oggi come oggi in parte l'ignoranza è una scelta e quindi ci sono i mezzi a disposizione chi vuole può crescere e quindi sì ho avuto anche le mie opportunità che ho anche sfruttato di dire per crescere assolutamente mi fa piacere comunque che ci sia stata una parte positiva poi quelle negative purtroppo ci sono abbiamo visto cose veramente brutte sia successa agli altri poi ognuno di noi avrà le proprie noi abbiamo visto ma anche desiderare una certa parte della società che era un processo già in atto perché era un processo già in atto però l'abbiamo visto la gente veramente i commenti su determinati post sono di una bassezza ci sono veramente esseri umani che stanno dando il peggio di loro stessi là fuori in questo momento sui social poi il social è questo megafono per stronzi per cui sei un cretino ti rendi conto di non essere solo non c'è più nessuno che ti leva il calice di mano e dai sfogo al peggio qui era Umberto Eco che diceva questa cosa davvero purtroppo è così però è un processo che è stato accelerato dalla pandemia ma era già in atto io guarda la pandemia una delle cose che ho apprezzato di più è stato togliere Facebook l'applicazione dal cellulare non ho più l'applicazione sul cellulare quindi quando voglio guardare qualcosa apro Instagram che tra l'altro mi è anche molto più non so mi sento un po' più vicino al tipo di comunicazione che può dare Instagram non ho probabilmente il pubblico giusto su Facebook magari le cose che scrivo su Facebook non vengono apprezzate così tanto quindi magari su Instagram ho un po' più di anche di interazioni positive Facebook è molto negativo io non darei la colpa però a Facebook attenzione non è la mia bolla di Facebook no no ma poi è la bolla che ho io cioè se vengo a scrivere sotto un tuo commento cioè sotto un tuo post non è detto che trovi la merda che trovo sotto i miei perché magari io mi sono contornato delle persone sbagliate magari per motivi sbagliati per tanto troppo tempo e allora anziché fare una pulizia degli altri pensando di essere io sulla torre d'avorio che decido chi rimane vivo e chi muore invece ho deciso di provare a distaccarmi e mi ha fatto un bene che tu non puoi immaginare lo capisco e ne sono contento per te io personalmente continuo a usarlo a Facebook perché mi è utile per quello che faccio c'è anche tanta discussione costruttiva se la vai a cercare soprattutto per chi scrive il social più testuale quindi più di quello c'è Medium che però è più cattedratico quindi c'è c'è più l'articolo che tu ti vai a leggere su Medium neanche lo conosco io ma è un social dove persone scrivono articoli fondamentalmente ok ok magari mi interesserò della cosa non l'ho seguito tanto però magari trovo del wrestling lì dentro non so oddio sai che non credo però penso io comunque non c'è mica solo wrestling ma allora adesso cominciamo a regare le domande quelle un po' più superficiali se vuoi quanto pesa la tua casa con tutta la carta che ci hai messo dentro negli anni guarda devo dirti che le mensole delle mie librerie sono pericolosamente inclinate nel senso che c'è stato un momento in cui aveva una mensola rivettato un muro e sto passando di lì e ho visto i libri per terra e ho detto la mia madre che è andata fuori di matto ha buttato tutto per terra invece no il peso dei libri aveva strappato la mensola dal muro mamma mia le mie librerie in camera sono fatte da un falegname su misura sono piuttosto come dire stagne e non ho tutto qui poi ho nel corridoio dove ho la cantina ho altri due trabilli uno lo devo prendere perché ho finito lo spazio anche lì cioè siamo sì la mia casa pesa considerabilmente di più questo è un bel problema questo è un bel problema ma riesci a distaccarti un po' dalla carta ora che hai Marvel Unlimited per esempio che rapporto hai con l'online per esempio io leggo senza problemi online poi ci sono libri che trovi e libri che non trovi poi c'è l'aspetto compulsivo perché passi dove sono le bancarelle dei libri li lasci lì soli non te ne vuoi portare due o tre a casa poi conta che c'è anche tante cose che mi piacciono che sono state pubblicate soltanto a cartacee tipo tutta la c'è tanto fantasy e fantascienza della Fanucci della Cosmo per esempio tanti vecchi Urania e quindi un po' sì poi ho un Kindle ho un Kindle Paperwhite pieno ho appena preso un Kindle Oasis a 32 giga fantastico però chiaramente anche lì ci finiscono libri a un ritmo a un ritmo molto elevato poi a me l'oggetto libro comunque piace non ho più spazio per tenere poi i fumetti li leggo in cartaceo tendenzialmente a perché non c'è un servizio come Marvel Unlimited per altre cose e b perché è per quello fondamentalmente perché forse ne prenderei di più in cartaceo se c'è in digital se ci fosse questa possibilità effettivamente mentre invece tutto quello che tu vedi di wrestling lo vedi attraverso il digitale sostanzialmente cioè dalla tv standard dal cambiare da un canale all'altro non si può praticamente più e quindi che wrestling guardi? io guardo poco ultimamente perché ho poco tempo a me piace a me piacciono soprattutto gli incontri vecchi NWA quel genere di cose qui o WWE anni 80 cioè quando c'era tanto storytelling quando c'era tanto storytelling quindi WWE anni 80 poi vecchie cose tipo come tu sai sto studiando gli incontri dei di di Rock and Roll Express esatto mi veniva Midnight Progress ma no sono i Rock and Roll Express quindi insomma tutto questo wrestling vecchio da studiare mi piace guardo poco wrestling contemporaneo però guardo poco a tv perché ho poco tempo cioè poco tempo io sembro ma sono pieno sempre di roba da fare fare leggere scrivere comunque write is right quindi devo scrivere ho veramente poco tempo per mettermi lì e cazzeggiare però però vediamo un'altra cosa che prima hai accennato ma che adesso la scaviamo un attimo di più quello che tu guardi quello che tu scrivi ti è utile direi utilissimo per fare un'altra delle attività che hai dato che avevi poche cose da fare deciso di inserire sei diventato il booker come direbbero quelli studiati il led booker ma in realtà il booker però non led booker perché non sono da solo ah perfetto AWS AWS Associazione Wrestling San Marino esatto io ormai lo dico ai sassi sono stato quello che ha consegnato il titolo al primo campione della federazione mi sento il padrino in qualche modo è stato Marco Follone a decidere che sarei stato io ecco vedi scherzi a parte comunque uscendo da questa da questa parte sei diventato questa figura che è in realtà la figura che credo possa farti dare il massimo anche quando poi il ring sarà una cosa più complicata da calcare perché qui ti sei di botto con un colpo di penna aumentato la carriera di anni sì esatto oddio spero in realtà di calcare il ring ancora per tanto tempo sì però sì è un vedere il wrestling da un altro punto di vista è un è un livello sopra nel senso che vedi cosa puoi fare con le persone vedi i tasselli come li puoi cioè vedi delle possibilità che prima chiaramente dal basso non vedevi se tu hai in mano questi lottatori adesso come li combino che storie voglio raccontare che possibilità mi danno perché poi non è che sia una tabula rase per raccontare proprio quello che vuoi a seconda di chi ha in mano ed è molto bello ed è molto è stimolante è assolutamente stimolante e insomma uno show c'è già che è un botta di San Silvestro su associazione wrestling San Marino e per il resto diciamo che stiamo lavorando per voi e quindi questo è fondamentalmente è è unire due delle mie grandi passioni la narrazione ma come è arrivata questa come è arrivata questa chiamata è stato un tuo desiderio ti sei espresso oppure ti è stato chiesto guarda mi è stato chiesto perché le due realtà collaborano nel senso che sono due realtà separate Vs e Viva però sai l'ambiente è comunque ristretto e non è che te ne stai solo nel tuo c'era una possibilità di collaborare perché no proviamo cioè è stato fatto il mio nome e perché non aiutare una realtà nuova piccola a crescere e a crescere bene e a crescere bene a partire già in quarta con questa nuova sensibilità che abbiamo che ho mutuato dalla Viva di fare un prodotto comunque che possa avere una sua validità anche narrativa bello da seguire e quindi credo che si percepisca credo che si percepisca io invito tutti ovviamente a seguire il show della AWS perché comunque c'è qualcosa ora non spoileriamo niente io per primo non so niente quindi ti chiedo di non spoilerare niente ma diciamo una cosa seria cioè il progetto che c'è alle spalle con tutte poi le difficoltà attuali che ci sono innegabili per tutti ne abbiamo parlato poco fa di pandemia e quant'altro il progetto ha basi ma anche tanti mattoni già pronti per vedere costruire qualcosa di interessante l'abitabilità di questo oggetto la scopriremo ma sicuramente il progetto è molto valido come ti senti all'interno di questo tipo di progetto nel senso essere stato chiamato un po' forse la responsabilità di farlo bene il desiderio di farlo bene lo scontrarsi con i risultati che emozioni sono molto bello i risultati sono stati buoni per adesso devo dire che in pochi giorni abbiamo sfondato le mie mila visualizzazioni che per il wrestling italiano sono numeri senza dubbio interessanti e sì mi sento la responsabilità di fare le cose al mio meglio però è anche vero che sono nel mio elemento quindi mi sento forte poi magari sbaglio tutto e scopro che ho sbagliato tutto però per adesso mi sento tanta voglia di fare e tante idee poi si respira una bella anche lì una bella aria io ho cercato di prendere il meglio da dove sono come worker e portarlo di là quindi la voglia di divertirsi la squadra comunque tutto questo genere di cose il fatto che ragazzi la vita è già piena di difficoltà almeno quando facciamo wrestling deve essere qualcosa di bello purtroppo e non faccio nomi non vado a rivangare situazioni perché come tutti ho le mie simpatie le mie antipatie per quanto io sia poco all'interno dei giochi da casata a Borgia però tendo a starne fuori da queste dinamiche però nel wrestling c'è da sempre questa attitudine alla guerra dei poveri ma se io che lavoro ora al giorno devo andare poi a rompermi i coglioni con delle persone per che cosa per un hobby alla fine lo amiamo tutti il wrestling ma qui nessuno è un pro nel senso che nessuno ci campa forse un paio di persone bravi loro ma in Italia siamo ancora lo vogliamo fare diventare qualcosa di più sì ci riusciremo forse lo stato attuale delle cose con hobby e io se devo andare a martellarmi i testicoli per un hobby non diventa più divertente guarda c'è tanto altro nella vita da fare di divertente quindi io voglio che sia un'esperienza umana bella per tutti quindi io cerco nel mio piccolo di creare l'atmosfera di aiutare perché poi non lo faccio da solo queste cose di aiutare a creare l'atmosfera di aiutare a far girare un bel team e di mettere le mie capacità di narratore a disposizione di qualcosa che poi faccia venire voglia alla gente di vedere se ce la farà il nostro eroe a farsi la franca o se ce la farà la franca a farsi il nostro eroe nel senso la voglia di vedere le puntate dopo perché io metto quello che ho amato io nel wrestling c'è un articolo che uscirà su quasi la rivista che non legge nessuno di una rubrica che ho adesso di wrestling è uscito il primo anzi è il primo che è uscito è già uscito questo perché poi ne uscirà un secondo su un altro è quello che ho letto io sugli anni 80 sì a me la cosa che ha colpito nel wrestling era quella le americane i microfoni le interviste cioè tutta questa narrazione e poi quello che succedeva con ring mi interessava qui da pagina 6 ma il fatto che si racconta si racconta uno show sportivo nel wrestling a me la cornice piace tantissimo e allora ho cercato di creare tutto questo genere di cose tutte queste storie che danno profondità a quello che stai vedendo quindi non vedi solo due ragazzi bravi in mutande che si picchiano sul ring ma vedi storie emozioni vedi un perché uno va a fare a bot da tutto questo genere di cose qui molto interessante molto bello tra l'altro io se trovo il link rapidamente lo vado anche a piazzare in descrizione di quell'articolo mi era piaciuto molto e avevo notato ma ero passato oltre e poi mi è stato detto guarda che questo articolo potrebbe piacerti in effetti è molto bello anche perché appunto l'abbiamo già svelato abbiamo la stessa età quindi abbiamo visto sostanzialmente molte cose nello stesso momento comunque con gli stessi occhi poi insomma i fumetti libri di fantascienza la cultura abbiamo tante più cose in comune di quante di quanto possa anche sembrare semplicemente e mi fa molto piacere una cosa che hai detto nella pluralità di chi c'è ognuno al suo posto tutti quelli che vogliono dare una mano sono ben accetti perché danno una mano veramente io insomma da quando ho iniziato questo percorso anche con la viva breast di fare il commento mi sono sentito subito parte perché so che è un punto quello quello del commento che posso fare io che magari può aiutare può infastidire può generare comunque delle emozioni ed è l'unica cosa che potrei fare io io non potrei mai né salire su un ring né fare qualcosa di diverso da quello però in quello posso dare una mano e voglio dare una mano ed è la cosa che mi piace di più quindi ognuno ha la propria parte io posso fare solo questo non posso fare altro però lo faccio con gran cuore e mi piace sentire questa cosa da parte tua e tu sei hai un ruolo molto più importante rispetto a quella piccola cosa che faccio io con la viva ma ti senti comunque una parte ed è credo la cosa che attira anche le persone che guardano wrestling cioè chi ci sta ascoltando chi è arrivato ad ascoltare più di un'ora di intervista l'ho fatto perché proprio gli interessa sapere delle cose che riguardano il datatore il booker lo scrittore tutto cioè è un bloccone unico bellissimo ma guarda che allora il punto è se metti il naso fuori dall'Italia e vedi qualcuno che ha una visione del wrestling per esempio l'ha detto Alex Shane mi ricordo siamo andati ad allenarci io Shock e Charlie Kidd qualche anno fa da Alex Shane che è stato un grande del wrestling inglese il tuo wrestling è il più grande sport di squadra che è vero è uno sport di squadra e un'altra persona che lo ripete molte volte è The Angry Wrestling Vet guardate il suo profilo facebook di Angry Wrestling Vet è il è il CEO del del sanctuary wrestling e lui lo dice sempre quando lui dà delle lezioni anche molto piuttosto dura sul wrestling e una delle cose che dice non fate gli stronzi con i cameraman non fate gli stronzi con lo staff perché ricordatevi che senza tutte queste persone voi sul ring non ci salite in realtà perché il wrestling è un racconto totale il wrestling è un racconto totale e ce ne stiamo accorgendo proprio in pandemia perché guardiamo il wrestling con occhi diversi perché senza il pubblico che fa il boato hai voglia di Thunderdome non è la stessa cosa non è la stessa cosa e non è la stessa cosa senza qualcuno che il ringolo monta non è la stessa cosa poi certo che tutti vorrebbero essere lì in cima e tutti vorrebbero essere dovrebbero alzare la cintura massima va bene certo però non è tutto lì perché se abbiamo solo un campione dei pesi massimi che alza la cintura neanche sul ring perché se nessuno lo monta non c'è neanche il ring non c'è wrestling la forza del wrestling è col collettivo e per questo che gli atteggiamenti da prima donna a me poi non vanno giù perché non mi vanno giù proprio perché il wrestling è una cosa così è uno sport di squadra e tutti sono parte della squadra è molto bello quello che dici veramente molto molto bello tra l'altro tutti i commentatori ma i commentatori sono molto importanti sì hanno un ruolo diciamo che sembra di come posso dire di contorno ma in realtà sono diretti io che dico Jerry the King Lawler JR Joy Styles Gorilla Monsoon tutte queste persone sono più importanti di tanti wrestler sono più importanti di tanti wrestler non arriverò mai lì però mi piacerebbe molto un uccidere in qualche modo no e spero di insomma mi impegno anche per quello poi dopo quello che viene fuori lo scopriremo sono veramente agli inizi quindi mi diverto un sacco su quello guarda divertirmi porca miseria non mi manca e mi sto divertendo un sacco oltre ad aver conosciuto un sacco di voi infatti ora ti farò una domanda stramba così no ma gli amici del wrestling chi sono per te cioè dimmi almeno un paio di persone che reputi veramente sono diventati questa cosa grazie al wrestling beh pietro pietro shock pietro shock johnny puttini marco folloni marco pdp crazy g comunque mio maestro ma anche un mio grande amico ho un buon rapporto comunque con i ragazzi del polo di brescia non si vediamo mai ma quando si vede la birra la si prende volentieri ce ne ho di persone con cui sono amico bello bello mi piace molto perché poi alla fine noi tante volte quando pensiamo in questi ambienti ci sono i litigi questo e quell'altro poi i wrestler di solito sono sul ring che si picchiano quindi è più facile non immaginarsi che ci siano liti in realtà le amicizie sono incredibili molto belle e tante quindi mi piace sempre chiedere gli amici e mi piace di più che gli amici anche Pac e Tsunami per esempio con Pac e Tsunami abbiamo fatto amicizia al volo per esempio anche abbiamo fatto le macchinate per venire giù a Modena con con Mary Cooper e Daniel Romano e tutti con tutti i due li ritengo due ragazzi molto intelligenti che possono fare molto bene nel wrestling tutti e due a loro modo o con sue tante buone persone voi hai parlato di Pac e Tsunami che ormai vabbè loro sono leggende c'erano agli albori del wrestling italiano insomma tante cose belle però insomma Pac e Tsunami mi hanno ricordato proprio che loro in coppia hanno iniziato agli albori della carriera mi hanno ricordato questi giovani questi giovanissimi messicani che hai avuto in AWS io ci vedo un grande futuro per loro si hanno perso il loro primo sconto però ragazzi c'è anche la forza dell'AWS è avere tutto questo avere dei lottatori affermati ma anche dei giovanissimi come loro vedi grande futuro per questi lost infectivos sono sicuramente una bella coppia di lottatori promettenti con una buona alchimia e secondo me secondo me il futuro gli potrebbe riservare delle belle soddisfazioni perché sono personaggi che piacciono prendono hanno questa energia molto messicana sono divertenti sono divertenti e come dicevo quando un wrestler sa anche divertire ha una marcia in più guarda ti dico la verità mi piacerebbe davvero tu parli di età ma la vera informazione sciocca è che Pack e Tsunami sono più giovani di loro non dirlo perché a questo punto rientriamo nel discorso che io te siamo coetanei quindi è un gran casino però insomma mi piacerebbe vederli magari contro Pack e Tsunami se mai un giorno sarà possibile vedere di nuovo Tsunami in azione sarebbe fantastico un passaggio di torcia sarebbe i vecchi contro i giovani esatto guarda una roba fantastica e comunque San Marino un posto per noi in qualche modo straniero io ho origini diciamo della Romagna e delle Marche quindi per me è un posto in realtà molto meno straniero che per molti altri e avere avuto subito al primo show anche due messicani promettenti insomma è sicuramente di buon auspicio di buon auspicio sì è bello perché dà quel tocco internazionale ma d'altronde San Marino è un altro stato quindi ci sta assolutamente partire col primo match della prima puntata con due ragazzi messicani insomma è stato un bel colpo assolutamente guarda credo sia stata una cosa di quelle che ci ricorderemo e forse ne parleremo e mi auguro ne parleremo ancora sì i ragazzi hanno espresso la voglia di tornare quindi perché no bello veramente molto bello guarda è proprio su queste cose che noi dobbiamo fondare le nostre prossime chiacchierate perché sì questa qui comincia a volgere al termine però tu sei entrato in questo club e una volta entrato dovrai tornare si fa non è un problema bene bene mi fa piacere mi fa piacere io spero che tu ti sia divertito per me è stato molto bello e queste chiacchierate sono sempre avanti per delle ore eh sì ma infatti il problema è che stiamo registrando questa puntata in un momento di fame ecco questa cosa non dovrei mai farla prima di cena dovrei sempre fare quando sono sattollo invece no invece no e non solo un format nella prossima stagione dove mangiamo davanti allo scherzo dai dai si fa si fa assolutamente e ti dirò di più se non ci sarà la pandemia molte di queste interviste le farò anche di persona e le faremo al ristorante mi piace mi piace l'idea o al ristorante o proviamo a cucinare un piatto nuovo di telebolo bello 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 io ci sto guarda ti do già la mia disponibilità non posso darti sicura la disponibilità della mia cucina ma ne troviamo una non ti preoccupare ma sì vuoi che non la troviamo ma sì due come noi due come noi la troviamo ma allora si volge al termine ci si saluta e sappi buona serata a tutti sappi che sarà invitato ancora anche in altri programmi noi siamo su Twitch le persone ci possono seguire anche lì e quindi ci saranno tante occasioni grazie davvero di cuore per aver partecipato grazie a voi e mi raccomando leggete tanto guardate tanto Resting assolutamente sì e ricordatevi che noi vi proponiamo un sacco veramente un sacco di materiale di approfondimento interviste podcast un sacco di cose belle seguitele seguitele il Varese di italiano seguiti il dottatore avete visto i social ci sono i libri un sacco di cose se volete veramente entrare nel mondo di Stefano e non io l'altro quello che ho qua di fianco è veramente un mondo incredibile tutto da scoprire e poi potete parlarci con lui ecco questa è una cosa bella è una persona avvicinabile avvicinatevi potete farvi anche un bonifico se vuoi passare lì in sovraimpressione assolutamente Liban sarà però forse trovano un cognome diverso con Liban ma non importa sempre Stefano mandate pure grazie davvero di cuore a tutti è stato un piacere ci si rivede fra sette giorni sono Stefano la voce di W Italian e ci sono i miei cieli sentiti alla prossima ciao ciao